Buonasera a tutti, sono molto contenta di essere qui con voi stasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti. E adesso tu ci canterai una canzone? Io? Sì, assolutamente. Me l'hai fatta, eh? Ma adesso la musica la conduco io. Buonasera. Agip Sint 2000. Subito. Ma anch'io uso Agip Sint 2000 per la mia macchinina. Faccio bene, no? Certo, se Agip Sint 2000 è l'ideale per le macchine di Formula 1, figuriamoci per le vetture normali. Il motore è diventato prezioso, assicuralo con Agip Sint 2000.